no ricchezza però grazie a Nagy Girl per tutti in un'epoca di gloria e liberazione io voto buono ottimo ecco qui ma votate tutti uguali tutto qua io non vorrei di niente a parte che c'ha sempre più voti quello di Cold come è possibile quello di Cold ha fatto schifo potevo evadere otto volte diverso no aspetta sto recuperando Cold ha fatto 81-19 e beh è un est o est e io ho fatto 82-18 82 è vicino eh oh ma sei hai vinto perché anche io ho fatto 81-19 vai vai votate laionio e diamanti arriveranno nelle vostre casse diamanti diamanti perché si sono fai cos'è successo perché ti fa dicono ma siete scemi che avete votato quello 83-17 laionio suprema